Oggi a Palazzo d'Oglio si è tenuta la conferenza stampa I Love Rosé, un evento che dopo il successo del Vin Italy a Verona delle cantine sarde vede protagonista dieci aziende con il capofila di Sochic Jean Paul Treguet che riunisce queste eccellenze sarde in una chiave di vini rosati che verranno presentati e degustati in un grande evento qui nella piazza di Palazzo d'Oglio il 21 giugno, una giornata che rappresenta l'inizio dell'estate. Una valorizzazione di territorio ma soprattutto una valorizzazione di prodotti autoctonici della nostra isola dove il rosé prende sempre di più ferte di mercato nella vendita e nelle degustazioni. Sardegna può diventare un grande territorio del vino rosato o rosé come volete. L'idea che oggi la Sardegna è molto rispettata, conosciuta per i suoi vini rossi, vini bianchi, l'intenzione è di dire siamo diversi produttori a fare dei vini rosati di eccellenza e dunque vogliamo insieme sviluppare il mercato ma anche sviluppare l'immagine della Sardegna come una terra di eccellenza per i vini rosati. E dunque questo evento che sarà il giorno dell'estate, il 21 giugno, qui in serata sarà al Palazzo d'Oglio che fa parte come sapete del gruppo Forte Village. E il Palazzo d'Oglio ci hanno accolti con entusiasma dicendo sì è una grandissima idea. Dunque il 21 giugno I Love Rosé sarà qui su tutta la piazza al Palazzo d'Oglio e l'idea è di avere qui i migliori produttori di vini rosato in Sardegna che saranno tutti insieme.